Quella che chiede perdono, che ti dice se gli manchi, che ti guarda dentro e ti chiede come stai magari proprio nel momento in cui avresti bisogno che qualcuno te lo chiedesse la persona che torna a parlare con te dopo che avete ridicato perché non gli piace stare distanti gli piace stare male con te sono queste le persone di cui abbiamo più bisogno nella nostra vita sono le mie compagne, gemelle, sono personaggi mandati nel nostro cammino e non è loro per fare un pezzo di strada insieme